Ciao ciao a tutti e oggi faremo i pancakes americani! Allora ragazzi per fare questa ricetta c'è bisogno di 250 g di farina, 2 cucchiai di zucchero, 20 g di burro, 250 ml di latte, 2 uova, 2 cucchiaini di lievito per dolci e un pizzico di sale. Ok ragazzi adesso mettiamo 2 cucchiai di zucchero. Prendiamo le masure, ok penso proprio che così va bene, e un altro cucchiaino. Ok adesso mettiamo un pizzico di sale. Ok così va benissimo. Ok adesso mettiamo 2 cucchiaini di lievito. Ok un altro cucchiaino. Ok così perfetto. Ok va bene adesso abbiamo messo il lievito, andiamo avanti. Ok adesso mettiamo 2 uova. Uff è caduto un po' di farina. Ok aspettate. Adesso si. E le mettiamo giù un pochino. Ok. Ok. Ho fatto un macello. Ok. Quindi puliamo. Anche le mie mani sono veramente pulite. Quindi vediamo un po' di farina. Wow è proprio gelatinosa. Ok. Adesso possiamo andare avanti. Vabbè ragazzi. Vabbè ragazzi. Si vede proprio che sono brava in cucina. Un po' di farina naturale. Ok adesso andiamo avanti con il latte. Non cucino molto spesso in realtà però. Allora. È rilassante cucinare anche se faccio un macello dappertutto però. Allora. Ok abbiamo messo il latte. Continuiamo. Ok l'ultimo ingrediente che è il burro. Ok. Allora. Ok. Ok ragazzi. Come vedete abbiamo fatto questo bellissimo pasticcio. Che adesso andremo a mischiare. Ok ragazzi. Adesso. Aero tatalato. Oh. Va bene! Ragazzi. Adesso abbiamo comunque visto. Alziamolo. E mettiamo questo qui. Accendiamo il gas. Ok. ok ok ragazzi adesso faccio il mio primo cante che in assoluto non è vero? hai vero che stai andando? ah non sta vero ok prima facciamo il mio cante non sta vero ok non sta vero ok non sta vero non sta vero non sta vero ok ragazzi adesso vediamo un po' se è pronto per essere girato vabbè adesso dovrebbe si quindi giriamolo l'ho fatto giusto un po' che è troppo grande però non è venuto male si è venuto veramente bene ok credo proprio che sia pronta quindi mettiamolo qui ecco qua ok il primo cante che è stato fatto ok adesso cerchiamo di nuovo di farne un altro però il primo devo dire che è venuto un poco male perché è una cosa proprio bassa adesso lo facciamo un po' bucchiatto uccello wow adesso si che è venuto meglio veramente meglio di prima sembra un uovo cicciotto va bene ragazzi ho deciso di diventare pasticcera la pasticcera dei dolci brutti perché è veramente bruttissimo ancora più chiatto di quell'altro e sembra una specie di uovo cicciotto e niente ed è sempre super sottile adesso si sta bruciando quindi meglio capovolgerlo aspettate un attimo è un po' grande quindi capovolgerlo io stiamo abbiamo un problema non si è bruciato no non si è bruciato ok ragazzi penso proprio che sia pronto quindi bucchiamolo insieme a tutti i granchi se ci riesco oh ok un macello va bene ok ora abbiniamolo per vedere com'è non è proprio un granchè anzi mi sembra proprio una cosa bruciacchiata non sarà tanto buono e poi è una cosa proprio una sottiletta ed è una cosa proprio larga una specie di non è un tank però niente comunque non sono molto brava in cucina quindi mi arredo ok adesso assaggiamoli devo dire che non sono bellissimi alcuni sono venuti carini però non sono un granchè però speriamo un po' che siano buonissimi allora adesso io ci metto il miele perchè mi piace tantissimo davvero dolcissimo però puoi metterci anche tipo lo sciroppo d'acero vabbè quello proprio si mette sempre però preferisco il miele però puoi metterci anche la marmellata la nutella di tutto però adesso mettiamo il miele ok ok vieni da me dolcissimo miele ok può bastare ok adesso mettiamo questo cucchiaino qui così non si porta ho fatto veramente un casino e vediamo un po' assaggiamolo un po' un po' duro vediamo ah no non è duro anzi è veramente tenero mi piace tanto va bene ragazzi devo dire che sono venuti proprio buonissimi non sono proprio bellissimi da vedere ma sono veramente di una bontà assunta e vabbè ragazzi da grande parola pasticcera niente dai scherzo non lo so comunque devo dire che ho fatto un ottimo lavoro spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video e se vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale se volete ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ragazzi grazie